La donna è sola. Porta alcune scatole. Un uomo chiede. Posso aiutarla? L'uomo aiuta la donna. L'uomo aiuta la donna. L'uomo aiuta la donna. La donna dice grazie per l'aiuto. La donna dice grazie per l'aiuto. Questo animale sarà cavalcato. Questo animale è stato cavalcato. Ma non è cavalcato in questo momento. Questo animale è stato cavalcato. Ma non è cavalcato in questo momento. Questo animale non è mai cavalcato. Questo animale non è mai cavalcato. Queste persone indossano abiti giapponesi tradizionali. Queste persone indossano abiti giapponesi tradizionali. Queste persone indossano abiti greci tradizionali. Queste persone indossano abiti greci tradizionali. Questa persona indossa abiti arabi tradizionali. L'uomo e la donna si tengo per mano. L'uomo e la donna si abbracciano. L'uomo e la donna si stringono la mano. L'uomo e la donna si tengo a brazzetto. L'uomo e la donna si trovi a braccietto. La porta marrone è chiusa a chiave. Chiude a chiave la porta d'ingresso. Chiude a chiave la porta d'ingresso. Apre la porta d'ingresso con la chiave. 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 Apre la porta d'ingresso con la chiave.